E' stato inaugurato questa mattina il nuovo Parco Giochi nella frazione Terramana di Nepezzano alla presenza delle autorità civile e religiose ma soprattutto di tanti cittadini cui dopo anni di attesa viene consegnata finalmente un'area verde attrezzata a misura di bambino. Siamo molto soddisfatti perché questo è un Parco Giochi che si aspettava da parecchio tempo. Da quanto? Le prime richieste sono state fatte, i primi procedimenti, intorno a una decina d'anni fa e poi comunque con i fondi del PNRR si è cominciato ad avere una messa in opera. C'è stato un periodo di stasi, questo praticamente grazie anche all'interessamento del nuovo assessore Marco Di Marco Antonio abbiamo fatto finalmente l'inaugurazione e oggi i lavori sono stati completati. L'inaugurazione peraltro è una giornata di festa? È una giornata di festa perché oggi è il San Lorenzo che è il santo padrono di Nepezzano quindi siamo tutti qui come comunità molto contenti. La realizzazione del Parco Giochi di Nepezzano rientra in un pacchetto di interventi che il Comune di Terramo ha progettato qui ma anche in altre zone del territorio comunale. Oltre a questo Parco Giochi c'è comunque il campo polivalente di Villa Schiavoni che ha 500 metri da qui e c'è il realizzando campo sportivo polivalente di Via Anna Magnani che alle nostre spalle ha 100 metri in linea d'aria. Di quanti fondi parliamo? È un pacchetto di attività che ha in circa 400 mila euro scarsi una serie di attività che comprende anche il Parco Giochi incontrato a San Benedetto che inaugureremo nei prossimi giorni, Putignano, Piano della Lente. Grazie a tutti.